Nel cuore delle Dolomiti c'è una piccola vetta incastonata tra i giganti di pietra, Col dei Boss, escursionismo e racconti sulla storia geologica, dall'ambra ai dinosauri. Un eroe della grande guerra, Angelo Schiocchiet, il diavolo delle Tofane, raccontato dai suoi discendenti. Cammineremo tra guglie e pinnacoli, nello scenario incantevole delle Dolomiti, patrimonio UNESCO. Prossimamente. Prossimamente.